Allora, anche Facebook è una macchina della rilevanza o forse è stato disegnato, nel senso è stato progettato dagli architetti di riformazione di Facebook in modo tale che questo concetto di rilevanza fosse appiattito sul concetto di interesse individuale? Ed è possibile, me lo domando da architetto di informazione, organizzare dei social media dove il concetto di rilevanza non sia appiattito sul concetto di interesse individuale? Allora, secondo me per esempio Twitter ha strutturalmente delle dinamiche in cui la possibilità per esempio democratica di creare degli hashtag si avvicinano di più alla possibilità di definire quello che per una certa comunità è un bene collettivo e non è interesse individuale.